Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi stiamo avventurando io sto bevendo una granita e adesso sta mangiando un gelato al gusto ragola io invece mi sono preso una granita al gusto menta quindi adesso stiamo qui alla fappa in gelateria un po' di roba fresca perché fa tanto caldo da noi e poi la prossima tappa andremo al tigota esatto e ci avventuriamo prendendo delle cose per un po' pegarti e un po' per noi che non vuole essere un po' qui e ci vediamo al più tigota tigota eccoci qua arrivati al tigota comunque se riusciamo facciamo anche delle clip all'interno tanto la nostra Noemi mette il pezzo a granita e poi la nostra noemi mette il pezzo a granita e questo è un po' di roba e questo è un po' di roba e questo è un po' di roba ma noi il piacere non abbiamo mai smesso di desiderarlo la libertà non ha mai avuto un sapore così buono e sta te zero zuccheri piacere rivoluzionario te best sono stati qua un minuto eccoci qua ragazzi siamo venuti a di noi rifare il nostro mio programma adesso siamo qui all'antiguità ci stiamo procurando delle cose adesso stiamo girando ci stiamo girando ci stiamo girando a 1,99 euro paghi uno gusti due MD buona spesa Italia cosa cerchi da me? non l'ho capito io ho tornato nel mondo ma cosa cerchi tu? voglio un amaro del capo voglio un amaro del capo voglio un amaro del capo voglio un amaro di un ciato spettacolare piazzato spettacolare piazzato va bene allora abbiamo comprato un po' di cosette che in un video ciao signora che in un video potremmo vedere ciao signore e come dire non vi diciamo quanto abbiamo speso perché è un segret ma però comunque abbiamo speso poco e stiamo tornando verso casa ed è molto bello mi sono divertita e non lo so mi sono tolta anche le acquarine qua perché se no cadevano sono tutta sudata ma dettagli sapete e la maglietta è tutta sporca di sudore bagnata guardate non si vede però vabbè dettagli ora ci vediamo in un prossimo video chi non si è ancora iscritto che si iscriva adesso e attivi la campanellina e lascia un bel like ha capito tu che non stai lasciando like lascia like ciao